Ciao a tutti e bentornati. Nuovo capitolo di furore, della lettura integrale che sto facendo del romanzo di John Steinbeck, che è uno dei libri più importanti della mia vita e quindi credo che meriti appunto una lettura integrale capitolo per capitolo. Oggi tocca al capitolo 8, che è un capitolo apparentemente di transizione, ma anche qui ci sono un po' di elementi piuttosto interessanti, ce ne sono un paio che vale la pena citare. È un capitolo abbastanza lungo e che riguarda la famiglia Jod, quindi seguiamo le vicende di, in questo caso ancora di Tom e del reverendo Jim Casey, che in questo caso percorrono l'ultimo tratto che serve per arrivare a casa dello zio di Tom per riunirsi con la propria famiglia e incontrano la famiglia. E quindi abbiamo la descrizione di alcuni dei membri della famiglia, ci vengono descritti il padre e la madre, due dei fratelli di Tom, si parla dello zio, i due nonni che sono personaggi molto particolari e il racconto, la descrizione che viene fatta da Steinbeck è quella di una casa piccola cadente in cui sono in atto sostanzialmente le grandi manovre di preparazione per la partenza verso la California. Ci sono tutti i mobili sparsi per l'aia, c'è il camion che è stato comprato e modificato, è stato tagliato lì dietro, è stato costruito tutto il cassone per poter ospitare l'intera famiglia Jod, che alla fine sarà costituita, partiranno in 12 persone, poi si vedrà nei capitoli successivi. E di fatto c'è appunto il racconto del primo incontro di Tom uscito dal carcere con la famiglia e c'è una domanda che tutti i personaggi che incontrano, che Tom incontra piano piano, prima incontra il padre, poi incontra la madre, poi incontra il nonno e il fratello, tutti i personaggi che Tom incontra gli fanno questa domanda, cioè gli chiedono se è evaso, se è scappato. E alla fine del capitolo in particolare Hal, uno dei fratelli minori di Tom, quando gli chiede se è scappato dal carcere, Tom risponde no, no, disse Tom, mi hanno liberato sulla parola. Hal e Hal fu un po' deluso perché Hal, che ha 16 anni, Steinbeck racconta che sostanzialmente vive un po' della luce riflessa di Tom, cioè il fratello di uno che è in carcere perché ha ucciso un uomo con una pala e quindi questo gli dà un po' di, oggi diremmo, street credibility, comunque di fama, tra virgolette, di successo sociale. Quello che è interessante è, in tutto questo, il racconto e la descrizione della madre. Come si è visto nel primo capitolo del romanzo, le donne in Steinbeck hanno un ruolo fondamentale. Non sono coloro che prendono le decisioni, nel primo capitolo si vede che le donne sono dietro, restano alle spalle degli uomini che si consultano dopo la tempesta di polvere e cercano di capire cosa fare per gestire la situazione. Come dire, sono il centro di equilibrio, il centro di gravità permanente, per citare Battiato, della famiglia. Le decisioni spettano agli uomini, sì, però le donne sono quelle che sostanzialmente tengono unita la famiglia. Gli uomini possono fare quello che vogliono, ma se non hanno una donna alle spalle che li sostiene e li appoggia, non hanno alcuna autorità. E la descrizione della madre di Tom, da questo punto di vista, è perfettamente esemplare. È una paginetta che vale assolutamente la pena di leggere, sempre da questa traduzione integrale di Claudio Perroni, uscita nel 2013, se ricordo bene, ed è che è la prima edizione integrale del romanzo pubblicato in Italia dal 1940, dalla prima edizione del romanzo. Quindi se avete l'edizione precedente, non è detto che questa descrizione sia uguale, non ho mai fatto un confronto a B di quello che c'è nell'edizione precedente di questa, anche perché è la prima volta in realtà per fare questi video che leggo furori in italiano. L'ho sempre letto in inglese, l'ho letto almeno un paio di volte, ma sempre in inglese, questa è la prima volta che lo leggo in italiano e la traduzione non è comunque una traduzione che mi sembra piuttosto valida e piuttosto efficace. Comunque, tornando alla descrizione di Majod, Tom rimase fermo a guardare. Ma era robusta, ma non grassa, appesantita dalle gravidanze e dal lavoro. Indossava un'ampia veste accollata di tela grigia, su cui un tempo erano stampati fiori colorati, ma ormai il colore si era sbiadito e i piccoli disegni floreali erano solo di un grigio un po' più chiaro dello sfondo. La veste arrivava fino alle caviglie e i suoi piedi larghi e forti, scalzi, si muovevano lesti e agili sull'assito. I capelli fini e grigi erano accolti in una piccola crocchia sulla nuca. Le maniche della veste coprivano fino al gomito le braccia forti e lentigginose, e le mani erano pienotte e delicate, come quelle di una bambina paffuta. Si era voltata e guardava nel sole. La sua faccia carnosa non era dolce, era risoluta, garbata. I suoi occhi nocciola sembravano aver vissuto ogni tragedia possibile, salendo come gradini il dolore e la sofferenza fino a raggiungere una comprensione sovrumana e un sonno equilibrio. Questa è una parte importante. Le donne in Steinbeck hanno sempre qualche cosa di mistico e misterioso. Gli uomini sono più concreti, le donne sono superiori, sono mistiche, per certi versi. Sembrava conoscere, accettare e gradire il suo ruolo di cittadella della famiglia, di roccaforte inespugnabile. E poiché il vecchio Tom, il padre, e i figli non potevano conoscere sofferenze o paura se lei non denunciava sofferenze e paura, aveva imparato a rinchiudere l'una e l'altra dentro se stessa. E poiché quando succedeva qualcosa di lieto, loro la guardavano per vedere se in lei ci fosse gioia, si era abituata a trarre motivo di riso da faccende che non ne avevano. Ma meglio della gioia era l'equilibrio, il senso della misura da affidamento, e il grande e umile ruolo di Mainz e non la famiglia l'aveva conferito dignità e una nitida, equilibrata bellezza. Il suo ruolo di risanatrice aveva dato alle sue mani sicurezza, nerbo, sapienza. Il ruolo di arbitro l'aveva resa remota e infallibile come una dea. Sembrava sapere che se lei avesse vacillato l'intera famiglia avrebbe tremato e che se un giorno si fosse trovata a cedere o a di sperare davvero, l'intera famiglia sarebbe crollata, avrebbe smarrito ogni volontà di funzionare. Le donne, Maggiotti in particolare, ma le donne in generale in Steinbeck, sono l'equilibrio, il sostegno, la forza. Sono tutto questo e sono esattamente quello che viene descritto qui. Alla fine l'ultima scena in assoluto del romanzo sarà una scena enigmatica con al centro una donna ed è una scena importante e che andrà studiata con grande attenzione. Ma Jod fa una domanda importante a Tom. Gli chiede, e ricito un'altra piccola parte perché è una storia interessante anche questa. Tom, te lo devo chiedere, non sei arrabbiato? Arrabbiato ma? Non t'hanno avvelenato di rabbia? Non t'hanno riempito di odio? Non è che in quella prigione t'hanno fatto qualcosa che t'ha guastato e riempito di odio? Si chiede se il carcere abbia cambiato l'atteggiamento di Tom e spiega perché. E qui Steinbeck fa una piccola divagazione che intanto ci dice che il romanzo è ambientato tra il 1934 e il 1939. Non abbiamo indicazioni più precise, non ci sono indicazioni più precise, ma questa ce l'abbiamo perché cita la storia di Charles Arthur Floyd, detto Pretty Boy Floyd, protagonista tra l'altro di una canzone di Woody Guthrie nelle Dust Bowl Ballads, che sostanzialmente era un rapinatore di banche che ha avuto per un periodo una certa fama mediatica perché fu protagonista di una serie di rapine che Woody Guthrie racconta come fosse una specie di Robin Hood, cioè uno che rubava i ricchi per dare ai poveri, che lasciava banconote da 100 dollari sul tavolo dei contadini che lo ospitavano per la notte quando si nascondeva dalla polizia. Charles Arthur Floyd, Pretty Boy Floyd, venne ucciso nel 1934 dopo un inseguimento di giorni legato a una sparatoria in cui lui o la sua banda avevano ucciso uno, mi pare, uno o due agenti dell'FBI che lo stavano inseguendo. E qui racconta Majord. Io ho conosciuto Pretty Boy Floyd, ho conosciuto sua madre, erano brava gente, lui aveva il diavolo in corpo, ma come ce l'hanno tutti i ragazzi? Tacque, poi le parole prorupero. Io non lo so tutta fino in fondo, ma questo lo so. Pretty Boy ha fatto una piccola cosa brutta e quelli gli hanno fatto male, l'hanno pigliato e gli hanno fatto così male che è diventato una bestia. E allora ha fatto un'altra cosa brutta e quelli gli hanno fatto male di nuovo. E lui è diventato una bestia furiosa, gli hanno sparato come un topo di foglia e allora gli ha sparato pure lui e gli hanno dato la caccia come a un coiote e lui azzannava e ringhiava come un lupo, pazzo di rabbia. Non era più un ragazzo e manco un uomo, era solo una bestia furiosa piena di odio, ma la gente che lo conosceva non gli ha mai fatto male, lui non ce l'aveva con loro. Alla fine l'hanno pigliato e l'hanno ammazzato. Non mi importa se i giornali dicono che era cattivo, è così che è andata davvero. E quindi si chiede se anche a Tom è successa una cosa del genere. Ed è interessante perché anche qui Steinbeck fa un'analisi, un racconto della società americana. La povera gente, secondo lui, se viene arrestata dalla polizia, quando viene arrestata, viene trattata così male che poi sostanzialmente il sistema carcerale non è fatto per riabilitare o redimere, ma semplicemente per punire. Quindi viene arrestato in carcere, ti trattano talmente male o comunque la situazione è così pesante che alla fine esci peggiore di come sei entrato. Tom in questo rassicura la madre che non è così e vedremo che in realtà è vero che non è così. E comunque qui appunto questo capitolo è un capitolo un po' di transizione, però appunto abbiamo la descrizione dei vari personaggi, abbiamo la nonna di Tom che è abituata alla religione protestante americana e quindi non fa altro che chiede esclamare Amen, ringraziamo il Signore, eccetera, che chiede al reverendo Casey di dire una preghiera prima della colazione e lui dice una preghiera delle sue senza dicendo chiaramente io non sono un predicatore, ma lei sì di una preghiera, mettici anche il fatto che andiamo in California, eccetera, quindi c'è comunque questa tradizione religiosa che torna e comunque appunto in questo capitolo sostanzialmente di transizione viene introdotta la famiglia Jod e si vedrà poi nei capitoli successivi quando comincerà davvero il viaggio che ognuno ha una sua importanza. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video, vi ricordo che se volete qui sotto potete mettere un mi piace, lasciare un commento parlando di furore, di argomenti legati a questo capitolo se mi sono scordato qualche cosa di importante, per esempio potete iscrivervi al canale se volete, attivare la campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi ricordo che sempre qui sotto in descrizione trovate anche il link per acquistare But We're Not The Same, il mio libro sugli anni più creativi degli U2 edito da Arcana e che potete trovare il link anche per ascoltare su Spotify le puntate di The Perfect Song, il mio podcast in cui racconto un po' di storie di canzoni rock che hanno delle storie da raccontare. Trovate le stesse puntate anche qui sul canale e vi ringrazio per il successo che stanno avendo, vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo video, vi saluto, sono Daniele Funaro, Londra Affonda e io vi faccio nel fiume. Ci vediamo alla prossima.